Una partita che ti ha visto partire da titolare e decisivo perché i due gol che ha segnato la Cremonese portano comunque la tua firma. Sì, sono contento perché dopo la partita contro la Samp ho avuto di nuovo l'opportunità di partire da inizio. Sapevamo quanto fosse importante questa partita, venivamo da due sconfitte in cui non eravamo riusciti a portare a casa quello che abbiamo meritato, però la squadra in settimana ha fatto vedere di aver voglia di reagire e secondo me con questa prestazione si è vista. C'è stato anche un altro momento decisivo all'interno di questa partita che ti ha visto addirittura salvare un gol sulla linea di porta e non capita spesso di vedere un attaccante con questa propensione anche a dare una mano difensiva. Sì, diciamo che comunque queste sono le mie caratteristiche, io fin da sempre cerco di aiutare la squadra in ogni ambito, quindi cerco sempre di dare il 100%, se c'è una coesione anche per difendere da una mano lo farò sempre, poi devo dire anche che sono stato fortunato che la palla stava capitando proprio dove ero io e fortunatamente è andata bene. Frank, prima dicevi che in settimana comunque avete avuto la sensazione che questa svolta potesse arrivare, ti chiedo che giorni sono stati? Allora, sicuramente il giorno dopo la sconfitta con la Feralpi non è stato semplice, la squadra doveva metabolizzare quello che era successo, allo stesso tempo però sapevamo che mancavano sette partite e che quindi la situazione poteva ribaltarsi un attimo e quindi abbiamo subito pensato a concentrare le nostre energie per questa partita. C'è un gran finale adesso, la Carmonese dormirà nella seconda in classifica, ma sa che può contare su Frank Stadio, ormai completamente inorganico. Sì, sicuramente adesso vedremo cosa succederà domani perché ci sono altri avversari diretti che devono giocare, però mancano sei partite, sono convinto che sia tutto in mano nostra, quindi concentrandoci su noi stessi sono convinto che possiamo fare grandi cose. Ti chiedo un'ultima cosa perché nelle scorse settimane è arrivata anche la notizia del prolungamento del tuo contratto, se ci puoi dire, insomma anche questa è una scelta della Carmonese che punta tanto su di te e anche te che vuoi rimanere a Carmonese. Sì, è stato sicuramente un grande attestato di fiducia perché da quando sono arrivato qua lo staff, i dirigenti mi hanno sempre fatto capire quanto credessero in me. So che questo è stato un periodo in cui non ho giocato tanto, ma appunto il rinnovo è stato comunque un segnale di fiducia e io cercherò sempre di ripagarla in campo. Adesso manca solo il gol in campionato. Esatto, arriverà presto. Grazie Frank. Grazie a voi.